Correre in mezzo a persone un po' alterate, anche fatte, strafatte, molto aggressive, che non vogliono essere guardate semplicemente e che magari sono capaci di venirti addosso, anche se tu le guardi troppo, non è facile. Correre in una nuvola di fumo non è facile. E quindi sono situazioni in cui diventa anche difficile coinvolgere le persone, farle venire qua. Non è da adesso che il Colle del Pionta è in queste condizioni a denunciarlo e l'associazione Amici del Pionta, di cui Susanna Agnelli è vicepresidente, un'associazione nata per riportare vita dentro ad uno dei polmoni verdi più belli di Arezzo. Anche un'eventuale ristrutturazione deve essere accompagnata innanzitutto da un rispetto delle regole, cosa che qui è praticamente diventato impossibile. Ma questa cosa è nata nel tempo. Sono tanti anni che questa cosa ha iniziato a andare sempre peggio. Tra l'omertà, il disinteresse della gente, perché negli anni passati c'è stato un totale, assoluto e completo disinteresse. Di chi avrebbe dovuto occuparsene. E non lo ha fatto, assolutamente. Io ho provato tante lotte, l'ho fatta in solitario, perché comunque mi veniva detto che certe cose non facevano neppure notizia. Un progetto del 2011, che lei conoscerà, quindi in quel caso amministrazione Fanfani, l'assessore competente da Franco Dringoli, che aveva messo insieme Università, ASL e Comune di Arezzo. Ecco, l'attuale amministrazione non l'ha ripreso. Allora, diciamo che non è facile, credo, chiaramente io lo guardo da privato cittadino, credo che non sia facile anche combattere con la realtà che si sta creando in Italia. La gente comunque ha rinunciato a questa zona, ha rinunciato a lottare, proprio perché comunque chi lotta viene etichettato. Lei che cosa, voi insomma, l'associazione che cosa farà come, diciamo, un movimento di opinione, come azioni concrete, che cosa farete? Allora, cercare di riportare delle attività pulite. Questo non vuol dire però portare tutto qui dentro. Portare tutto vuol dire anche portare qualunque cosa. Deve essere fatta anche una selezione di cosa portare all'interno di questo parco. Non è facile, non è facile assolutamente, anche perché chiaramente fare una selezione porta automaticamente alla parola discriminazione. è un passo, ma in realtà non ha niente a che vedere quella discriminazione. Saper discernere ciò che può essere una cosa pulita, come può essere ad esempio lo sport. Lo sport che può essere aperto a tutti, quindi non ha distinzione. Chi ha una buona intenzione nei confronti del parco, non lo vuole usare per altri fini, è ben accetto.